Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccoci qua con un nuovo video! C'è un bel paccozzo per farvi vedere il contenuto Una grande promozione per voi Compra scatta pubblica Cioè se voi comprate da questo sito che è bellissimo Vende delle cose stupende Adesso vi faccio vedere Entro il 31 luglio E pubblicate la foto taggando All in Packaging su Facebook Che appunto è il sito che mi ha mandato queste cose Poi ritenisci per in cambio Tutto il costo dei prodotti che avete spesoci Quindi vi restituiscono i soldi indietro E' fantastico E in più c'è anche un codice sconto per voi Per tutti i miei follower Quindi adesso vi faccio vedere tutto quello che avete avuto Yeah! Ciao ragazze, All in Packaging È un sito che vende tutti i contenitori cosmetici Anche pochetta Andate a vedere Vende delle cose fantastiche A prezzi super convenienti E poi c'è anche il mio codice sconto Che è Carlita For All in Package Cioè praticamente ve lo metto qua in sua impressione Carlita 4AIP praticamente Carlita For All in Packaging sarebbe Le iniziali E riceverete uno sconto Tutte le cose Sono delle pochettine troppo belle ragazze Tipo troppo carine da portarsi Adesso in estate, in viaggio Guardate come sono belle Cioè questa è troppo carina Ed è super impermeabile Quindi io la immagino anche per metterci I trucchi, i solari E c'è anche una pochettina interna Che si attacca da qualche parte Sì qui Appunto per mettere magari qualcosa di più Delicato da chiudere qui dentro E questa poi è così Ed è troppo carina Vedete Questo è il sito Vedete Tutte plastificate Hanno un profumo Tipo di gommone Vado stupendo Qua c'è tutte le civette Troppo carina Rosa Tutta colorata Ed è molto spesso il tessuto Cioè non è di quelle che si rompono Dentro è tutto impermeabile Sono proprio di qualità E dentro ci sono anche i contenitori Che loro stessi vendono Su questo sito Vedete Prova per Quando dovete portare Con voi prodotti Ad esempio qua dentro Mettete le cremine Le cose Qua mettete sciampi Tonici Sia se fate i cosmetici in casa Con le mie ricette Sia anche se volete Fare delle cose da viaggio Io spesso travaso Dei prodottini Le metto nelle giarrine Qua ci metto le cremine Qua ci metto shampoo Basso Prende le più piccole Ad esempio sull'aereo Eccetera Sono troppo troppo belli Queste sono appunto Le giarrine piccole Queste sono Dei flaconcini Poi se vedete sul sito Appunto Allinpackaging.com Trovate veramente Una miriade di consignitori Per tutte le scelte Sono troppo belli Trovate anche tante cose Per la casa Per la cura della persona Andate a vedere Perché è veramente bello Il sito Questa pochette È una delle mie preferite È troppo bella ragazzi Cioè praticamente Non so se riesci a vedere La bellezza Di questa pochette Che è nera Tutta così Troppo bella Ha questa Ha anche un profumo Bellissimo È nera e dorata È bellissima L'adoro È troppo bella Dentro poi Sono fatte proprio bene Ragazzi C'erano tutte le taschine Se potete mettere i pennelli Le cose Spazzolini Guardate com'è bella Questa è anche rigida Cioè adesso Perché era nello scatolo Se lo riempite Rimane tutta bella rigida È troppo bella Questa Molto elegante Proprio carina Poi Un'altra pochette Madonna io adoro Poi le pochette Non so se vuoi Ma io sono malata Di pochette Impazzisco Comunque ce n'erano Davvero tante Queste le ho scelte Io sul sito Erano le mie preferite Però ce ne sono tantissime Questa è un'altra pochette Che viene così Ed è Anche questa È fatta benissimo Molto doppia Tutta rivestita Dentro Impermeabile E c'è appunto Questa qua Che si attacca qui Per portarla anche Sulla mano È molto molto carina Questa la vedo Molto elegante Anche per i trucchi Da borsette Eccetera Poi Ancora un'altra pochette Questa è super carina Con le righe Questa Volevo regalarla A mia sorella Nancy Perché ha le righe E le piacciono le righe E poi è piccolina È troppo carina Adesso vediamo un po' Spero che le piaccia Praticamente Questa si apre così È tipo È troppo carina È tipo un beauty Tipo quelli da viaggio Però in miniatura È piccolino E dentro però È molto comodo Anche questa struttura Così Vedete Cioè che tu lo apri Lo lasci così Sul bagno E ci sono tutte le cose dentro Quando è finito Lo chiudi Quindi le cose Stanno più ordinate Ed è tipo rigido Molto molto carino Questo c'era anche Di varie dimensioni In realtà Tutte le pochette Ci sono di varie dimensioni Quindi potete vedere Sul sito Poi veniamo i contenitori Ad esempio Ci sono anche i contenitori Faccio vedere Tipo di questo tipo Vabbè rompiamo tutto Non so voi Ma a me piace rompere tutto Te le buste Questo qua Tipo potete utilizzarli Per detersivi Per la casa E magari dentro Comprate solo la ricarica Così risparmiate È un bello spruzzo Che praticamente Non si rompe mai Perché questi qua Sono contenitori professionali Ma anche ad esempio Da portare in spiaggia Con un'acqua spray Mettendo acqua dolce E fate quest'acqua spray Infrescante Da spruzzarvi addosso Troppo troppo carino Ci sono tanti contenitori Bellissimi Faccio vedere ad esempio Alcuni che ho scelto io Che mi servivano Perché dovrei farmi Delle cosine Guardate ad esempio questo Per una crema Com'è bello Cioè è stupendo È troppo bello Questo pack È bellissimo Guardate È veramente bello Tutto dorato Bello 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 Sono dei contenitori Fantastici Poi ci sono anche Questi qua ragazze Che sono praticamente Quelli là Di vetro piccolini Vedete Con i contagocce Questi sono molto Molto utili Poi ci sono anche Contenitori così Semplici Sono contenitori Di tutti i tipi Ad esempio C'è questo Questo anche È molto bello Perché vedete È tutto plastificato Un po' lucido Col dispenser Con questo Tocco qua Colorato Metallizzato Insomma Sono veramente Veramente Belli Anche questo Come è bello Questo è un bel Contenitore Sempre per una crema Sembra tipo di cristallo È troppo bello Immaginate averlo Tipo sul vostro Lavello Nel bagno È troppo bello Sul comodino Contenitori anche così Semplicissimi Vedete In vetro Con uno spray Per metterci un profumo Sono troppo Troppo belli Questi qua Troppo carini Oppure così Che questo è tipo Una Una giarrina Però un po' più particolare Vedete Perché è metallizzata Ed è troppo bella Anche questa Molto molto carina Cioè sono Contenitori Super fighi E poi questo qua Che fantastico Contenitore Del Burro cacao Quello là A forma di maccaron Che poi vabbè Si possono mettere Varie cose dentro Non solo il burro cacao Una semplice giarrina È molto molto carino Comunque ragazzi Andate sul sito All in packaging Perché è davvero bellissimo Ci sono cose fantastiche Mi piacerà tantissimo Ne sono sicura E poi Potrete anche comprare Tante di queste pochettine E tante cose carinissime Ci sono anche tante altre cose Utilizzate il mio codice sconto Carlita 4 A I P Quindi Carlita For All in packaging E mi raccomando Se comprate Entro il 31 luglio Pubblicate la vostra foto Su facebook Tagando All in packaging E inserendo il vostro codice Dell'ordine Così Può darsi che riceverete I soldi indietro Di quello che avete comprato Cioè è fantastico Questo concorso che hanno fatto Ed è bellissimo Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciatemi un like E fatemi sapere Se comprete dal sito Ciao Un bacio Ciao Sì, 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 sì.